sei già troppo stretto? no, va bene vai, dove vai? qua devi arrivare, qua chiudi, chiudi, chiudi via 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 bravo quando fai qua davanti devi andare su là a filo da girarti là se tu pensi di arrivare qua e chiuderla per fare la curva il di dietro ti pigi giù la moto il di dietro ti scappa fuori pensa ad andare là dai su senza andare a incasinarsi lì vedi qua sei riuscito però dunque continui quando sei così o vai o vai il di dietro stefano Così eri lì, così eri lì, figaro, manubro cosa ti ha detto il chicco, guarda lui dove ha le braccia, e riesce a incasinarsi anche lui. Lui fa i recuperi perché è alto 20 centimetri più di te, no guarda che anche lui ogni tanto fa di quei recuperi, vediamo lì, bravo, vedi, bravo, ruota in alto e giri lungo, dai, dai, se no ti do il cane a portare in giro, forza, è meglio il gatto perché il cane tira troppo delle ore dopo, dovrà fare la spesa, dai, 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 forza, e che già non fa il pezzo di sabbia perché sbaglia già là, via, ma io non capisco perché chiude, ma che cosa ti frega, ma questo non lo vede neanche la moto, allora quando hai fatto così che gli stavi dando e poi hai chiuso, allora dagli un pelino, appena davanti ti salta su, fai il saltino sulla moto, la moto ti va su per forza quella moto lì, vai Michi, no vai un cazzo perché mi viene addosso, anche lì, ma perché andate in casino, ma porco zio, ma qua figaro passa qua, perché andate su sto coso qui, che quello lì ti chiude, c'è il manovolo tutto sotto, te lo chiude sotto di qui, passate qua, passate qua, o lo prendi esatto, o lo prendi qua che sfrutti e l'allarghi di più, ma rischi che poi il di dietro ti passa lì, ti sballa ancora, quindi chiudila, oh, Lele, ti pulisco bene anche il coso, eh, dai, su, forza che sei a posto, dai, avanti, non ti fermare, via, 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 sei giusto, via, ma per me la moto che non ha, la moto che decide dove andare lei, la moto che decide dove andare lei,